La musica ora con Ennio Morricone che compie 90 anni, autore di oltre 500 melodie memorabili, capolavori che hanno davvero segnato la storia del cinema. Sentiamo Ines Uva. Pochi soldi, niente orchestra, molta inventiva, Ennio Morricone trasforma un fischio e uno sparo in un capolavoro immortale. Inizia così nel 64 il suo dalizio fra Sergio Leone e il grande maestro che oggi festeggia 90 anni a Roma, prima di partire per l'ennesimo maggio in Francia. Un'onda lunga di affetto e di riconoscenza che circonda il compositore, direttore d'orchestra, arrangiatore geniale, anche in versione pop. Innovatore insieme popolare rifugge dai cliché Morricone, attinge dal repertorio classico e colto. Le sue colonne sonore hanno scritto la storia del cinema. È importante che la musica rappresenti quello che non si dice nel film e quello che non si vede. 70 milioni di dischi venduti, due Oscar, l'ultimo due anni fa per Hateful Eight di Kent in Tarantino. Nel 2007 quello alla carriera glielo consegna l'attore simbolo degli spaghetti western, Clint Eastwood. Maria. Grazie. Grazie.